È stata approvata la nostra delibera. Abbiamo presentato a Pescara e in altri comuni della regione Abruzzo questa delibera per escludere il territorio comunale dal recepimento di quella che abbiamo definito sanatoria delle cantine, ovvero la possibilità di recuperare locali accessori che non hanno le dimensioni minime per essere abitabili o per ospitare appunto il lavoro delle persone, appunto abbiamo escluso la possibilità sul nostro territorio di fare questo tipo di recupero. L'abbiamo già definita una legge contro legge perché appunto permetteva la possibilità di vivere e lavorare in locali non idonei. Abbiamo lavorato a tutti i livelli e specie appunto in Parlamento dove con una interrogazione dell'On. Colletti abbiamo ottenuto il fatto che la legge sia stata impugnata dal Consiglio dei Ministri proprio perché in alcune parti si vede che la normativa regionale è entrata in contrasto con la normativa nazionale, e specie appunto per quanto riguarda i minimi inderogabili per l'abitabilità e quindi per rendere questi locali idonei ad ospitare persone. In Consiglio Comunale noi abbiamo portato questo tema e abbiamo trovato l'unanimità, quindi diciamo tutti i gruppi politici che siedono in Consiglio Comunale hanno smentito i loro consiglieri regionali perché con questa legge si sarebbe andata a implementare a livello comunale in zone già fortemente antropizzate un condono che è sostanzialmente inaccettabile soprattutto per le condizioni di rischio idrogeologico che abbiamo in quella zona. Noi ricordiamo che a Tortoreta abbiamo avuto un'alluvione nel 2007 che è stata disastrosa che fortunatamente non ha avuto vittime però ha creato grandissimi danni con questo condono che è stato un po' nascosto da una giustificazione un po' ridicola che è quella di limitare il consumo di suolo, in realtà diciamo si aumenta l'antropizzazione e si riducono i servizi tipo parcheggi, marciapiedi eccetera. Anche a Giulianova questa sanatoria ha portato grazie al Movimento 5 Stelle dei benefici? Sì perché adesso su tutto il territorio quindi non verrà applicata questa legge regionale che era veramente scandalosa e quindi siamo più tranquilli anche perché Giulianova effettivamente ha una configurazione geografica particolare, la collina tra due fiumi, insomma fronte mare e quindi geograficamente ha delle caratteristiche che purtroppo possono prestare il fianco a dei disastri.